Ciao! In questo video parleremo delle note sulla patch 3.1b e c'è un'informazione importante, ossia che questa è l'ultima patch della 3.1. Infatti ci dicono che l'11 maggio ci incontreremo per la patch 3.2 che è tra 3 settimane. Molto interessante, magari, visto che di solito le patch sono bisettimanali, ci arriva un bel dev diary che ci dà qualche informazione, magari su nuovi campioni, qualcosa di interessante, ecco, lo scopriamo a breve. Intanto andiamo avanti e vediamo che c'è una nuova modalità, la landa degli elementi, che però non ci fanno sapere esattamente quando arriva, cioè non ci hanno dato l'orario ufficiale di quando arriva, infatti c'è scritto la landa degli elementi sarà accessibile e manca l'orario. Ma come la volta precedente sarà su una modalità di gioco limitata, quindi come prima molto poco irrilevante. Se la volete provare, provatela, io onestamente aspetto che esca nelle ranked ufficiali, che tanto, insomma, è lì che conta, cioè è lì la roba che conta veramente. I cambiamenti che faranno comunque in questa landa di test saranno che, dopo che il primo drago viene ucciso, il terreno cambia, quindi da subito dal primo drago, e che quindi potete fare già subito delle belle giocate, o così dicono, e il secondo cambiamento è che la squadra che uccide due draghi riceverà una delle potenti anime, quindi prima hanno cercato di rendere tutto il più veloce possibile, e hanno apprezzato i feedback e bla bla bla, ma non ci danno appunto l'orario. Per i nuovi aspetti ci fanno sapere che il 28 aprile arriveranno Brand Predone e Graves Predone, i Marauder, in inglese, se cercate la skin. E basta, per le skin non ci dicono nient'altro. Abbiamo qualche accessorio che ci viene mostrato, questo è il poro di Bilgewater, ecco tra l'altro è Bilgewater o Bilgewater? Ecco, fatemi sapere voi come lo pronunciate giù nei commenti. Ed ecco qui, molto carino, molto carino il poro, come sapete sono un po' affezionato ai poro. L'evento è in viaggio col pelosetto e i poro hanno spiegato le vele e fanno rotta verso Bilgewater, appunto, ma anche qui come sempre con gli eventi ci dicono molto poco, però ci fanno sapere che inizia il 29 aprile alle ore 2 di notte. Ma andiamo finalmente alla parte che ci interessa, ossia le modifiche ai campioni. Il primo che vanno a modificare è Blitzcrank, dicono abbiamo ridotto l'armatura alla luce del maggior potenziale, nonostante fossero nei nodi della patch, queste modifiche sono state involontariamente escluse dalla 3.1. Se sono dimenticati un pezzo di patch, vabbè. L'armatura di base è 50, diventa 5.1 per livello e quindi l'armatura totale sarà 122. Cioè praticamente gli volevano aggiungere un nerf ma non lo hanno messo, se lo sono dimenticato, hanno detto vabbè, va bene così quello che abbiamo fatto, anche se ci siamo dimenticati un pezzo. Quindi manteniamo questo, com'è? E queste sono le statistiche base, quelle che vi ho letto poco fa. Mi dispiace per i Darius Main, ma lo vanno a nerfare, effettivamente troppo piccato in solo Q, veramente tanto piccato in competitive, ma gli vanno ad abbassare solo la velocità d'attacco per livello, che sì, è un nerf pesante, ma se non altro non gli hanno toccato le cure o i danni, insomma i danni delle abilità. Quindi che cosa vanno a cambiare? La velocità d'attacco per livello passa da 2.2 a 1.2, quindi la velocità d'attacco a livello 15 dal 41 diventa il 27%, e un bel po' in meno sicuramente soffrirà per questa cosa, ma l'importante è saper utilizzare bene l'animation cancel di Darius, cioè di tirare attacco base, poi attivare la seconda abilità e ne tirate uno subito, poco dopo. Ecco, così è molto buono. Di modo che potete fare qualche trade decente senza aver troppi problemi di velocità d'attacco, ma sicuramente è un nerf importante. E finalmente arriva un nerf buff su Fiora, diciamo che dai leak le persone si stavano già molto preoccupando, però è ok, nel senso che gli vanno ad aumentare la passiva, che fa più danno con il punto vitale da 2.5 al 3%, il rapporto dell'attacco fisico viene aumentato, quindi va a fare più danno grazie alla sua passiva, ma le vanno a nerfare la prima abilità, cioè la gittata dello scatto viene ridotta da 4 a 3.5, ed inoltre il raggio di ricerca da 3.5 a 3, il raggio di ricerca è praticamente quel piccolo spazio in cui la spada decide che cerca quel bersaglio, ecco. Quindi semplicemente ho danno, scusatemi, range ridotto sulla prima abilità, e quindi sarà un po' meno oppressiva in lane, e per compensare questo le danno dell'attacco fisico. Per me potevano fare solo il nerf e basta, però vabbè, vediamo cosa succede nella patch attuale. Anche Jean viene nerfato, ma non come pensate, perché che cosa è successo? Che Jean rubava troppo facilmente baroni, draghi e così via con il suo quarto colpo, magari col critico al massimo, tirava queste mega sequoie da 2.000 danni, e non va bene, e quindi l'unico nerf che gli fanno, appunto, è semplicemente una riduzione, un cap, ecco, i danni massimi, che prima non aveva limiti, adesso può fare massimo 1.000 danni, appunto, agli obiettivi neutrali, come, appunto, come i mostri, in questo caso il barone e il drago. Ed eccoci al momento meme della patch, Kaiza, il nuovo rasoio della tempesta, ha creato interessanti percorsi di sviluppo per Kaiza, ma non l'ha aiutata a vincere più partite, poverina. Stiamo dando ai suoi danni un po' più di coerenza, un po' più, un po' di coerenza in più, ecco, per assicurarci che possa davvero brillare in quei combattimenti a squadre di fine partita. Ah, sovraccarico, terza abilità. La ricarica viene ridotta, quindi il buff sulla terza abilità, perché così se sbrigate più tira fuori prima l'attack speed. Non comprendo questo campione più che forte, a prescindere da tutto, ma va bene. E per l'usion invece abbiamo un buff, non sta andando alla grande, come dicono loro, ed effettivamente anch'io l'ho abbassato sulla tier list, e gli danno un piccolo buff alla prima abilità, che semplicemente si ricarica più velocemente di un secondo. Quindi 9876, 8765. Un po' più di spam di prima abilità e quindi di passiva, non male per lui. E andiamo a vedere Master E, che nonostante i nostri recenti nerf, Master E sta ancora dominando la giungla, effettivamente lasciato ancora in tier S, per ridurre la sua capacità di sfricciare tra i campi e annientare rapidamente e ammontargli all'attacco fisico fornito dal suo colpo alfa. Il colpo alfa semplicemente viene nerfato, cioè la prima abilità, i danni base vengono abbassati e il rapporto dell'attacco fisico viene abbassato. Ed è quello che avevo detto io, lo avete nerfato solo alla clear speed della jungle, ma faceva comunque un porcaio di danni alle persone e adesso appunto fa meno danni in generale sia alla jungle che alle persone. Ci sta anche se devono stare attenti se non vogliono farlo tornare di nuovo un tier D inutile. Non che a me cambi qualcosa se torna in tier D, visto che non gioco jungle e di sicuro non gioco mastery. Per Olaf c'è una sistemazione invece, cioè praticamente loro dicono che non avevano aggiornato il rapporto di 30% tra danni e costo appunto dell'abilità. Quindi il costo in salute viene ridotto perché quando avevano nerfato appunto i danni non avevano nerfato anche il costo in salute. Quindi il costo in salute viene ridotto, ma la percentuale di attacco fisico rimane identica. Infatti c'è scritto, dato che c'è un rapporto tra il 30% tra danni e costo. Quindi va anche abbastanza bene. Rakan invece viene buffato, dicono che non è abbastanza piccato, tranne quando sta con Xayah, ma non capisco che partite stanno guardando visto che Rakan sta funzionando molto bene. Anche la versione AP funziona molto bene, lo piccano in competitive, carri a tanti game. Ma va bene, loro lo buffano, gli vanno a dare del mana per livello che da 41 diventa 57. Io torno a giocarlo a P mid a questo punto. E quindi il mana per livello passa da 1.9 a 1.233. Onestamente non ho neanche avuto mai troppi problemi di mana con lui, specialmente perché si builda spesso il bastone secolare. Ma vabbè, la Riot ha deciso di dargli del mana a Rakan. Seth invece viene nerfato, perché nonostante tutto si sono accorti che è rimasto estremamente forte, quindi gli vanno ad abbassare la rigenerazione della passiva. Infatti vediamo che viene abbassata però solamente, diciamo in prospettiva. Cioè all'inizio della partita è nerfata, ma alla fine torna uguale, cioè rimane a 2. Quindi parte da 0.25 invece di 0.5, ma alla fine rimane appunto 2. Invece la prima abilità, andiamoci dentro, gli vengono ridotti i danni base. Cioè da 10 diventano 5, da 25 diventano 20, 40, 35 e 50. Insomma sempre 5 in meno appunto sulla prima abilità. Ed infine abbiamo Yumi, che l'hanno tenuta d'occhio e che ha ancora difficoltà a vincere. Ma dove? È sempre bannata! Vabbè, ha difficoltà a vincere. Le forniamo più occasioni per usare la sua passiva e balzare sui nemici. La passiva, che da scudo dà 60 più 22 per livello e 30% di potere magico, diventa 60 più 25 per livello e 35 per cento di potere magico. Ripristino di mana, da 20, ecco questo forse è un baffino che ci può stare sul mana, diventa da 20 più 5 per livello a 20 più 5 per livello più il 15% del mana massimo, quindi un 3% in più del mana massimo ci può stare sul ripristino del mana, visto che ne soffre veramente tanto. E poi vanno a baffare il proiettile stregatto, che è la prima abilità, quella per fare un po' di danni e per rallentare. Semplicemente la ricarica viene abbassata di un bel po', visto che parte da 12 a 9 al primo livello, fino a tornare solamente intorno a 6-5 secondi alla fine, quindi molto simile. E il mana viene ridotto da 70 a 50, quindi vogliono che faccia un po' più di danno, vogliono che faccia un po' più di scudo e che utilizzi meno mana, quindi un buff bello importante per Yumi, che sicuramente sarà super forte e super piccata. Ma passiamo alle modifiche al gameplay. Il primo è il velo della Banshee, che viene baffato, praticamente il potere magico diventa da 70 a 75 e la velocità di abilità diventa da 10 a 15, quindi un bel buff, ci sta, io lo build ogni tanto, comunque mi piace come oggetto, e quindi sono contento di questo buff. Il Mega Motore Extech non viene praticamente mai buildato, e quindi per provare a farlo buildare più spesso, che cosa hanno fatto? Hanno ridotto il costo totale in gold da 2700 a 2550, e il costo per combinare da 650 a 500. Poi il pugno di Jaurim, che è il pugnetto rosso con cui si fa ad esempio lo Sterak, o altri oggetti, insomma, cosa fanno? Gli viene un piccolo cambiamento, cioè il costo in gold rimane sempre lo stesso, ma vanno a sostituire il modo in cui si costruisce. Prima appunto c'era il rubino di cristallo più 700 oro, adesso diventa la spada lunga più 700 oro. Questo perché in genere va a costruire oggetti che sono mirati insomma a cercare un'aggressività, e loro dicono ti serve di più la spada con il danno piuttosto che il cristallo della vita, fondamentalmente, quindi vogliono forse creare questa distinzione un po' più netta tra i combattenti e i tank. Ci può stare, è un bel cambiamento. Poi andiamo a vedere il Memento Mori che viene baffato, praticamente vanno ad aumentare le statistiche di attacco fisico da 40 a 45, dicendo che rispetto alla sua controparte il rancore di Serilda è un po' meno efficace a causa della natura più limitata del suo debuff con ferita grave e quindi vogliono provare un po' a potenziarlo. Poi abbiamo la virtù della triade che ovviamente sapevo che stava per arrivare questo buff, cioè la buffano perché dicono tutti costruiscono l'annientatore divino anche quando non serve vedi build di Ezreal dove non è necessario e tra l'altro arriverà un video di Ezreal a breve e appunto l'attacco fisico viene aumentato da 20 a 25 e la salute da 200 a 250 per far piccare di più la virtù della triade specialmente rispetto all'annientatore divino. Infine abbiamo la lama di Yomu che dopo i nerf ad impeto la lama di Yomu non si è comportata bene quindi che cosa fanno? Vanno ad aumentare la penetrazione di armatura da 12 a 15 e la velocità di abilità da 10 a 15. E per ultimo ma estremamente importante abbiamo un cambiamento a largo granchio nella giungla che cosa fanno? Vanno a ridurre l'esperienza fornita da largo granchio da 2000 a 1200. Vogliono evitare che il meta ruoti fin troppo e le partite specialmente anche con lenzolo Q intorno all'argo granchio cioè dove i jungler devono per forza assicurarsi uno o più argogranchi rischiando di buttare le partite nel cesso fondamentalmente riducendo così tanto l'esperienza quasi dimezzandola proprio per dire se sei un campione che non è aggressivo in early game se sei un campione che non deve cercare questo tipo di combattimenti per un mostro neutrale piuttosto farmati la giungla tua. mi piace tanto questo cambiamento ci vorrà un po' di tempo che prima che i jungler si abituano a questa nuova cosa cioè del puoi lasciare lo scatto chiaro che lo scatto appunto a largo granchio ha un'importanza anche di visione e di movement speed però se non altro ha questa esperienza ridotta che potrebbe diciamo ecco creare un po' meno problemi e ci siamo ma vi invito a rimanere un attimo con me prima di chiudere il video perché voglio ringraziarvi voglio ringraziarvi perché sono rimasto praticamente l'unico su Wild Rift Italia e sarà difficile da adesso in poi e tutto il supporto che mi potete dare semplicemente guardando i video mettendo il like iscrivendovi e così via sarà molto importante e niente vi ringrazio per essere stati con me in questo video e anche nei prossimi si spera o anche in quelli precedenti se non li avete già visti e vi ricordo che vado in diretta streaming tutti i giorni molto spesso adesso non vi dico più l'orario perché sto cambiando gli orari ma sto andando in live veramente tanto quasi sempre dalle 17 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte comunque posto tutti gli orari sui social e cerco di metterli anche alla fine dei video quando appunto posso che ho l'infografico disponibile e detto questo io vi auguro una buona serata delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo